Luca Onestini, un dolce pensiero per Ivana Mrazova, la speciale dedica social. I fan del grande fratello Vip speravano che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova nascesse una bellissima storia d'amore, al momento, però, non sembrano esserci ancora nuovi sviluppi, lui non ha mai nascosto di provare un certo e forte interesse nei confronti della modella cieca. Lei ha invece ribadito, più e più volte, di diversi il tutto giorno per giorno, senza correre troppo, anche perché si è lasciata da pochissimo tempo, dopo la fine del reality show condotto da Hilary Blasi, i due non sembravano essere in grado di separarsi. Una volta usciti dalla casa più spiata d'Italia hanno trascorso moltissimo tempo insieme, ma ora sono stati costretti ad allontanarsi per un po' di giorni a causa di alcuni impegni. Grande fratello Vip, Luca Onestini pensa ancora a Ivana Mrazova, un messaggio speciale, ma per fin... Luca Onestini e Ivana Mrazova non si vedono da diversi giorni ormai, la bella modella è tornata in Repubblica Ceca per trascorrere un po' di tempo insieme alla sua amatissima famiglia, in ogni caso, la dolce ragazza farà presto ritorno in Italia. Chissà se al suo rientro accadrà qualcosa con l'ex tronista di uomini e donne, e mentre lei si gode l'affetto dei suoi familiari, lui sembra avere la testa piena di pensieri. In queste ultime ore, Onestini ha pubblicato un messaggio d'amore sul suo Instagram Stories, parole dolcissime quelle che il ragazzo ha utilizzato per descrivere il sorriso di una misteriosissima donna. Luca Onestini ha perso la testa per una ragazza, messaggio d'amore per Ivana Mrazova? Luca scrive, di notte le emozioni sono più intense, quando sorrideva era come se si aprisse una finestra su tutti i più bei paesaggi del mondo. Il giovane ex del grande fratello Vip ha scritto determinate parole pensando a qualcuno in particolare, la gran maggioranza dei suoi fan sono convinti che tale messaggio sia indirizzato proprio all'amrazova. In ogni caso, il diretto interessato ha preferito non dire nulla, lasciando così un punto interrogativo non indifferente. Grazie per la visione!